La passione si unisce all'emozione Ed è proprio lì che capisci che quel giorno può essere quello giusto Quello giusto per entrare nella storia o restare nell'ombra Quello giusto per tentare un'impresa o quantomeno averci provato Quello giusto per stupire chi ti sottovaluta e non deludere chi ti stima E allora sei lì, fermo, davanti a un canestro E cosa fai? Inizi a giocare Grazie a tutti Beko Final 8 2016 Mediolanum Forum di Assago 19-21 febbraio Perché questa volta esserci conta davvero Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti